Cos'è il network marketing? Ragazzi siete veramente sicuri di volerlo sapere? Adesso ve lo spiego io. Prima di partire con il video però lasciate mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi io sono Cristian e benvenuti di nuovo qui in un nuovo video di Obiettivo Networker. Oggi come vi spiegavo dal titolo vi andrò a spiegare cos'è il network marketing. Ragazzi molto semplice. Il network marketing non è nient'altro che un metodo per portare un prodotto sul mercato. È un metodo di veicolazione di un prodotto. Prima di spiegarvelo meglio però nel dettaglio andiamo a vedere quali sono gli altri metodi per portare un prodotto sul mercato. Va bene? Il primo è la vendita al dettaglio ragazzi. Sì sicuramente l'avrete già sentita nominare. Non è nient'altro che quel tipo di vendita che passa dalla casa madre. Ok? Si fa tutta la filiera e arriva al consumatore finale. Vi faccio un esempio. Un supermercato. Un'azienda crea il prodotto poi tramite tutti i vari tramiti. Ad esempio magazzinieri, stocchisti, trasportatori, pubblicità. Quel prodotto arriva sullo scaffale ovviamente a un prezzo completamente diverso. Ok? Se magari, faccio un esempio comune, se un prodotto all'inizio costa uno, dopo tutta quanta l'altra fila di persone che toccano il prodotto, sugli scaffali dei supermercati ti costa venti. Ok? Il secondo metodo è la... La vendita diretta ragazzi, la vendita diretta. Vi faccio un esempio. Venditori porta a porta, televendite, questo tipo di sistema per portare un prodotto sul mercato, per vendere un prodotto. Ok? Diciamo che c'è anche adesso, andava tantissimo negli anni 80, anni 2000. Diciamo che con la digitalizzazione del tutto, con lo sportstarci tutto nell'online, questo metodo per portare un prodotto sul mercato, a giorno d'oggi, in internet, si chiama... Affiliate marketing, ok? Semplicemente noi prendiamo un prodotto da un'azienda, noi ci associamo a un'azienda, parliamo del prodotto e lo vendiamo. Ok? Il network marketing è una cosa in parte simile all'affiliate marketing. Ok? Perché noi, sì, ci associamo a un'azienda e vendiamo un prodotto, siamo noi la pubblicità dell'azienda. Ok? Però, oltre a questo, abbiamo la possibilità, vi faccio un esempio, questi siamo noi, non soltanto di vendere il prodotto al consumatore finale, ma di poter anche insegnare ad altre persone a fare la stessa cosa, andando così a creare una rete commerciale. Ok? Capite bene che, chiaramente, qui guadagnano anche gli altri e non guadagnate soltanto voi, come magari può essere la semplice vendita diretta o comunque affiliate marketing. Voi qua, tramite le persone che avete nella vostra squadra, avete la possibilità di guadagnare anche su di loro. Voi avete anche delle provisioni su di loro. Ok? Questo cosa fa sì, che ovviamente non subito, ma nel tempo, voi abbiate anche la possibilità di potervi creare una rendita passiva. Ok? Perché se dopo un po' voi create una rete che a loro volta si duplicano e creano anche altre persone, entrano anche altre persone, vendono anche loro i prodotti, voi potete ben capire che se loro, che sono sotto di voi, sanno fare il lavoro, magari anche meglio di voi, voi che siete sopra, avete la possibilità di percepire una rendita passiva. Ok? Sia ben chiaro, non vi sto assolutamente parlando di guadagni facili, tutte quante queste cose qua, bisogna lavorarci nel tempo, però comunque il network marketing è una delle migliori opportunità in assoluto per potervi creare una rendita passiva. E in più, perché, infatti volevo dirvi, perché tante aziende al giorno d'oggi si ispirano al modello del network marketing? Perché hanno capito che, innanzitutto, vanno a evitare tutta quanta la trafila che si faceva, diciamo, tempo fa con la vendita al dettaglio, perché non devono pagare trasportatori, o per meglio dire sì, devono pagare trasportatori per portare il prodotto a casa, ma questo è un'altra cosa, si paga solo quello. Però nel senso, non devono pagare tutte quante le varie trafile che prima la pagavano, ok? E perciò l'azienda cosa fa? Le aziende che utilizzano questo metodo, questo sistema, che è il, come vi dicevo prima, network, il network marketing, evitando tutta quanta questa trafila, ha la possibilità di investire tutti quei soldi per metà nella qualità del prodotto e per metà nelle persone che ci lavorano, ok? Perciò, ragazzi, questo qua è un sistema veramente, veramente potente. Ora, io vi dico, non facciamo noi network marketing come pensate voi, perché è la maggior parte di come lo fanno tutti, ok? Noi lo facciamo con un metodo molto, molto più smart, più semplice, online, ovviamente semplice non significa facile, però non andiamo a rompere le scatole ad amici e parenti, non saliamo sulle sedie agli eventi, non facciamo la lista nomi, tutte quante queste cose qua, ma usiamo dei processi online dove andiamo a targetizzare persone che sono seriamente interessate alla nostra attività, ok? Ovviamente, se volete saperne di più, venite a vedere qui la masterclass qui sotto nel video e entrate in candidatura e così noi andremo a vedere se voi potete entrare nel nostro team, se avete le potenzialità giuste che noi stiamo cercando. Ovviamente, vi dico subito, noi non cerchiamo tutti, ne cerchiamo pochi, ma buoni, ok? Perciò, ragazzi, da questo video è tutto, ci vediamo al prossimo!